Più da vicino, perché quello della webcam non è sufficiente secondo me. Questo è... oddio! È sempre... Mamma mia, è sempre più pericolante. È sempre più pericolante, la torre di Piusa ci fa le pippe. Ostia! Errorissimo! Tra l'altro fare il video senza appoggiare i gomiti al tavolo per non farvelo vibrare è ancora più difficile. Non farcelo vibrare. Ok, ce l'ha fatta! Per l'ultimo. O tempora o mores, così, per dire una frase. Morituri ti saluta! Jenga yacta est! Jenga yacta est è il dico, tra l'altro. Momenti di puro terrore. Uccire sta uscendo abbastanza... C'è tanta pressione, vediamo. E vediamo se il Sith muore. C'è un'altra cosa che dobbiamo fare, subito per caso ci riesce. Ok... 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 Ce l'ho fatta! Servire nella vita. Vai Claudio. Vai, ti arroganza. Ah, proprio così. Arroganza. Sì, sì, lo faccio. L'arroganza. Questo qui... E in realtà i tiri ne abbiamo finiti. Questo è il tiro per la gioia di Claudio per far vedere la cosa che cade. Perché è molto bello in radio sentire la caduta della torre. Ok. Siamo a metà. Già fatto. Sotto è soltanto fatto di croci. Già stai facendo? Sì, sta già facendo il video. Ok, questo conclude tutto. Lasciamo spazio a Claudio. Oh, non sembra... No, invece... Se ce la fa lì, siamo tutti dei vincitori. Vai! Vai! Attenzione! È vero, si sente l'attenzione solo a guardare. Uh, minchia, che jerking che gli hai fatto alla fine. Ragazzi, ragazzi, abbiamo vinto! Allora, ufficialmente, ufficialmente, la torre del giro ha fatto fanball. Abbiamo vinto. Però adesso andiamo... Grazie.